Per me il giallo dato a Leao, il secondo giallo, non c'era, perché allora si crea un precedente. Quando uno va a fare una rovesciata, uno ci mette la testa, prende la bocca e il giallo... Vabbè, ce lo mette apposta! Mette la testa, spera di prendere un cazzo qui, faccia apposta! Ma a meno che uno non vada così... Ma che dici? Non è che perché urli hai sempre ragione. Non lo senti! Allora, non dire coionerie, non devi dire le coionerie... No, le coionerie le dici tu! Le coionerie le dici tu! Tu, parla diversamente, le coionerie le dici tu! Parla diversamente, ti dico la mia opinione, tu rispetta la mia opinione, io rispetto la tua! Buono lì, fine, chiuso! Buono anche te, sta lì tranquillo! Sono tranquillissimo! Allora, non pensare sempre di avere ragione te, perché non sei l'astro nascente! Non hai mai dato un calcio al pallone e vuoi farlo... Ma chi è che non ha dato un calcio al pallone? Ma che ne sai! Ma che certo, ma certo! Parli sempre da sopra il pianistallo! È importante, vieni qua a parlare! È certo, è certo! Parla! Certo che parlo! Posso parlare! Certo che parla!